Incidente mortale a Cagli muore 44enne Elezioni a Pesaro parte il percorso di candidatura di Andrea Biancani Amianto ancora tanti casi irrisolti fra Pesaro e Monte Ciccardo Emergenza casa siglato il patto dell'abitare Tennis Nardi vince il Challenger di Napoli e diventa il numero 76 al mondo Una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Riparte l'informazione di Rossini News dopo la breve interruzione legata alla lunedì di Pasqua Riprendiamo con il notiziario di martedì 2 di aprile Che purtroppo apriamo occupandoci di un incidente mortale avvenuto sulle strade della provincia di Pesaro Urbino Incidente che è avvenuto questa notte quando Simone Capoccia 44 anni di Cagli È morto attorno al 1.30 in uno schianto fra le frazioni Cagliesi di Secchiano e Pianello Per causa in via d'accertamento mentre l'uomo stava rientrando a casa Ha perso il controllo in curva della sua Volkswagen Polo E l'auto ha urtato un albero per poi rovesciarsi in maniera fatale Ed ora la politica Nel sabato di Pasqua è partito ufficialmente il percorso elettorale di Andrea Biancani A candidato sindaco di Pesaro per la coalizione di centro-sinistra Ascoltiamo le sue prime linee programmatiche a margine del taglio del nastro della sua sede elettorale In sella alla Vespa sul manifesto ingresso sulle note di 50 special nella sede elettorale di Largo Tre Martiri Nel sabato di Pasqua è partito così il percorso di Andrea Biancani Per puntare all'investitura sindaco di Pesaro nella chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno Un Biancani che ha scelto lo slogan della marcia in più per Pesaro Quella che si sente di aver costruito sul suo lungo percorso politico Accompagnato a suo dire da una visione concreta di futuro Pesaro è una città nazionale, è Pesaro capitale della cultura 2024 Il tema della cultura e del turismo sarà uno degli aspetti più importanti Che vorremmo portare avanti nei prossimi anni Ma voglio dire che cercherò anche di dare attenzione ai quartieri Io ci credo molto, i quartieri hanno bisogno, innanzitutto i consigli di quartiere di essere supportati Penso che sia importante anche una maggiore manutenzione della città Non solo in centro storico e in zona mare Ma cercando anche di riqualificare tutti quelli che sono gli spazi pubblici Gli spazi della comunità nei vari quartieri Tra i temi ovviamente fondamentali che ci sono in città Noi siamo una città ospitale, una città dove il sociale è un punto di riferimento, un'eccellenza nel nostro territorio E quindi i temi legati al sociale, i temi legati alla famiglia, i temi legati anche alla cultura dell'ambiente Saranno i temi principali che cercheremo di portare avanti nei prossimi 5 anni Pesaro è una città che ha decine di migliori di investimenti Dal mio punto di vista era necessario un amministratore capace che sappia comunque mettere a terra tutti gli investimenti che sono previsti Parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro Non è pensabile improvvisarsi il sindaco Il sindaco è un'attività molto importante e molto impegnativa E io sono disposto a mettere la mia esperienza a disposizione della città Ricordo che non vorrò cambiare dal punto di vista della capacità di ascolto delle persone Il tema dell'ascolto, il tema della condivisione sarà sicuramente fondamentale tra i temi che vorrò comunque portare avanti Dai temi ai rapporti, innanzitutto quelli con la Regione Marche dove Biancagni è reduce da 9 anni in Consiglio Prima in maggioranza, poi l'opposizione La mia è un'esperienza secondo me molto importante Con chi oggi governa la Regione ho un ottimo rapporto, un buon rapporto Ovviamente rispettando le parti, io sono l'opposizione in questo momento in Consiglio regionale Ma alla base di tutto ci deve essere il rispetto ma soprattutto l'interesse dei cittadini Non dobbiamo guardare il corone politico quando si tratta di fare il bene di una comunità E io spero che questo governo regionale sappia dialogare e la veda come me Cioè dobbiamo comunque collaborare negli interessi dei cittadini Dal dialogo con la Regione a quello con le forze di coalizione in via di formazione Da quelli già dichiarati e intuibili fra i presenti all'inaugurazione della sede Siamo partiti già, io ad oggi ho ascoltato tutte le forze politiche Che in qualche modo fanno parte di questo governo comunale, di questa alleanza di comune Devo dire che tutti hanno dato la disponibilità a sostenermi come candidato sindaco Stiamo cercando di allargare ulteriormente quella che è la compagine di governo di questo comune Stiamo ascoltando anche altre forze politiche che ad oggi non fanno parte di questa coalizione Io mi auguro che entro la prossima settimana ci sia una risposta definitiva Sapendo che il programma ancora non l'abbiamo definito Perché tra le cose che ho detto è che aspetto di fare il programma Perché è necessario che ogni forza politica possa dare il proprio contributo E quindi il programma uscirà solamente nel momento in cui abbiamo deciso Chi sono le forze politiche che decidono di sostenere Biancani e candidato sindaco Da Pesaro alla collina di Monte Cicardo Continuano i casi irrisolti di amianto deteriorato ancora in attesa di rimozione Le segnalazioni abbondano così come non mancano le ordinanze e gli accertamenti di ARPAM e ASUR Che certificano la presenza di diversi casi di amianto ed eternit deteriorato pericoloso Su depositi e aziende private a due passi dalle abitazioni Dai quartieri peseresi di Muraglia e Pantano alla collina di Monte Cicardo Il consigliere comunale Daniele Malandrino e la coordinatrice di Fratelli d'Italia Serena Boresta Riaccendono l'attenzione sui troppi casi ancora irrisolti Il problema dell'amianto è stato segnalato in diverse zone di Pesaro In particolare quello di amianto deteriorato che è la principale causa del mesotelioma Un tumore micidiale In questo caso parliamo di Monte Cicardo, di Muraglia e di Pantano Dove l'ASUR ha ad esempio qui a Muraglia certificato la presenza di amianto deteriorato già dal 2015 La domanda da farsi è come mai il sindaco e la giunta che sono responsabili della salute dei propri cittadini Non intervengono come la legge permette Perché la legge non obbliga ma permette al comune di sostituirsi ai proprietari per la rimozione dell'amianto E per poi rivalersi sugli stessi a livello di costi sostenuti Casi che si trascinano per anni con tutti i rischi connessi Casi sollevati anche in interrogazioni in consiglio comunale Io ho portato il caso di Monte Cicardo in consiglio comunale Ho fatto presente anche che a Muraglia a 50 metri in linea d'aria Ci sono centinaia di giovani e di bambini che si allenano tutti i giorni E con la consapevolezza dei problemi legati all'amianto a livello di tumori Il mesotelioma in particolare Non capisco come mai chi è responsabile come sindaco della salute dei propri cittadini Non interviene prontamente Anche perché come dicevo la legge te lo permette Anzi puoi anche rivalerti giustamente sui proprietari che non sono intervenuti Quindi è una cosa che andrebbe fatta prima possibile Soprattutto nei riguardi di quei residenti che sono molto preoccupati Dalla presenza di questo amianto deteriorato E nei riguardi in questo caso anche delle centinaia di atleti Che si allenano nel campo sportivo di Muraglia E torniamo a parlare della crescente difficoltà di trovare casa a Pesaro Soprattutto per le fasce più deboli In questo senso è stato siglato oggi nelle comune il patto dell'abitare Vediamo di cosa si tratta in questo servizio Sostenere le fasce più deboli nel diritto alla casa Va in questa direzione il patto dell'abitare Sottoscritto oggi tra il comune di Pesaro E 11 realtà territoriali coinvolte nelle politiche dell'abitare Dalla Caritas alla federazione agenti immobiliari Dalla federazione mediatori alle principali sigle sindacali a tutela degli inquilini Non ci soffermeremo solamente sul concetto dell'accesso al bene casa come infrastruttura E poter dare offerta abitativa significa anche ripensare e ripianificare la città Anche da un punto di vista del patrimonio edilizio residenziale sia pubblico che privato Dunque il filo conduttore è principalmente coinvolgere anche il privato In un'ottica di partenariato pubblico privato Partenariato pubblico privato per instaurare politiche di welfare abitativo Di rigenerazione dell'edilizia residenziale pubblica E strumenti finanziari innovativi Linee di intervento per rispondere ad una questione abitativa sempre più complessa Che non riguarda più solamente le categorie fragili Alle quali noi rispondiamo con l'ERP e l'edilizia residenziale pubblica E quindi con anche l'aiuto a livello regionale di ERP Ma abbiamo purtroppo una crescita di questa criticità che a livello nazionale ha percentuali Che vanno dal 20 al 40% Siamo anche una città che ha un tipo di offerta e di mercato Sfalzata dal fatto che siamo una città balneare Quindi risente della stagionalità dell'offerta abitativa Bisogna che abbiamo contezza di quello che noi possiamo mettere a disposizione della nostra comunità Appunto per accedere al bene casa Contezza quindi fare un censimento, una mappatura Con l'aiuto anche delle associazioni di categoria Come sono i rappresentanti delle agenzie immobiliari Che abbiamo appunto chiamato al nostro tavolo Insieme anche ai rappresentanti degli utenti Ovviamente quindi tutti i sindacati che si occupano di questo settore E ovviamente saremo felici anche di allargare questo tipo di patto Anche ad altre rappresentanze come quelle dei proprietari e via dicendo Il modello che noi abbiamo seguito è il piano casa di Bologna Che è una proposta che è stata fatta e inserita nell'ambito della rete ANCI E abbiamo anche altri comuni di riferimento che hanno deciso di affrontare questa criticità Ieri nel lunedì di Pasqua vigili del fuoco di Urbino e personale del soccorso alpino speleologico Sono intervenuti per soccorrere un'escursionista scivolata in un dirupo nel bosco di Tecchie Nel territorio di Cantiano Si è trattato di una donna di 45 anni che nella caduta si è fratturata una gamba Vista la zona impervia è stato necessario l'intervento dell'elicottero proveniente da Arezzo Che ha issato l'escursionista con un verricello a bordo del mezzo aereo Per poi provvedere al trasporto in ospedale Nell'anno di Capitale della Cultura Pesaro ospita per la prima volta Cum Festival La rassegna ideata da Massimo Recalcati è giunta all'ottava edizione E dopo sette edizioni che si sono tenute ad Ancona ecco la prima volta a Pesaro Nell'anno di Capitale della Cultura Pesaro ospita per la prima volta Cum Festival Una rassegna giunta all'ottava edizione dopo le sette precedenti tenute sia la mole vanvitelliana di Ancona La Kermes diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati e coordinata dal filosofo Federico Leoni Si terrà da venerdì 5 a domenica 7 aprile fra Teatro Rossini, Sperimentale, Palazzo Ciacchi e Musei Civici Tema scelto per questa ottava edizione è La vita della scuola Saranno tre giorni in cui come di consueto nel Festival Cum Massimo Recalcati, direttore artistico Chiama una serie di figure della cultura, della scienza, della pedagogia, della psicologia Per discutere in maniera trasversale su questo grande tema, quello della scuola, quello dell'educazione Quello di cosa significa essere un maestro e ricevere un insegnamento al giorno d'oggi Un'opportunità preziosa perché poi i progetti che coinvolgono anche gli studenti da protagonisti Sono quelli che lasciano più il segno, che lasciano più il segno nelle coscienze, nella costruzione di percorsi culturali Ma soprattutto creano anche quello scambio tra le generazioni e tra le esperienze e le conoscenze Che è fondamentale se, come è vero, il progetto di Capitale della Cultura vuole andare a trovare anche una nuova idea di cultura Senza accontentarci solamente delle forme classiche e consolidate Ma anche capire con le nuove generazioni cos'è fare cultura e cosa serve alle nuove generazioni rispetto all'approccio al mondo culturale Cum Festival si propone ogni anno come un cantiere e fucina d'idea La presenza di 40 ospiti per 30 incontri che spazieranno da Edoardo Albinate a Annalisa Cuzzocrea Da Enri De Luca a Teresa Forcades Dialoghi elezio magistralis per indagare il ruolo della scuola nel panorama contemporaneo Diciamo che il Festival Cum nasce come un festival che si occupa del concetto di cura Ogni anno si affronta un argomento in maniera appunto trasversale Dalla scienza fino alla cultura, all'arte e via dicendo Però dopo la pandemia Massimo Recalcati con Federico Leoni e con tutto il team e il comitato scientifico del Festival Cum Ha pensato che fosse necessario dedicare una serie di appuntamenti annuali ai grandi temi che riguardano il nostro paese E ha voluto iniziare simbolicamente anche significativamente con il grande tema della scuola Perché se non si affronta il tema della scuola all'interno di un paese Parlare di ripartenza quando si ragionava dopo la pandemia e comunque parlare di sviluppo in qualche modo E di sostenibilità di un paese diventa impossibile Restando in tema di Capitale della Cultura, la rassegna Incontri Capitale porta a Pesaro giovedì 4 aprile alle 18.30 Il commissario europeo Paolo Gentiloni a conversare con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Sul tema l'Europa nel mondo che cambia nella lusfera di Piazza del Popolo Un'occasione di confronte e approfondimento sul ruolo dell'Unione Europea E sulle sfide che la stessa è chiamata ad affrontare nel contesto globale A moderare l'incontro sarà la giornalista della Sette Alessandra Sardoni Torna Miraviglia Mercanti in Gioco L'iniziativa promossa dal comune di Pesaro per l'aggregazione sana di grandi e piccini nel parco Miralfiore A sostegno di comportamenti sostenibili tra i quali il riuso degli oggetti Domenica 7 aprile è il primo appuntamento dalle 9 alle 18 in cui si invitano i bambini A portare i propri giochi al parco per una vendita o un baratto E in occasione della Pasqua una delegazione di tifosi della VL e della Vispesaro Hanno consegnato 40 uova di cioccolato al reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore di Pesaro Le uova dell'Ant sono state acquistate grazie alla generosità delle tifoserie In favore dei piccoli pazienti ricoverati I tifosi sono stati accolti dal personale medico sanitario e dai bambini Che hanno ringraziato per lo splendido gesto di vicinanza al reparto pediatrico Oggi 2 aprile ricorre la giornata mondiale dell'autismo Una ricorrenza che è celebrata ogni anno dal liceo artistico Mengaroni di Pesaro Che organizzerà per sabato 6 aprile al Cinema Teatro Loreto Una giornata in cui riflettere sulla tematica fatta di performance di teatro, danza, cortometraggi, musica E dialogo con gli esperti di questa tematica Ed è stata inaugurata a Gradara una nuova opera d'arte del progetto Oltre le mura Finanziato dal bando della Regione Marche a sostegno delle arti visive Si tratta di un'opera di street art innovativa alta 3 metri e larga oltre 4 Formata da 50.400 tasselli di mosaico in ceramica dipinti a mano che raffigurano uno sguardo femminile Si tratta di un inno all'autodeterminazione delle donne che nasce dai racconti raccolti Dai due artisti coinvolti nei luoghi della famosa storia di Paola e Francesca L'obiettivo del progetto è creare un legame tra passati e presenti della storia di Gradara Ricercando una nuova iconografia di Francesca da Rimini E cambiando la narrativa che l'ha vista per molto tempo prima come peccatrice poi come eroina romantica Così l'arte riscrive la storia e fa riflettere sul ruolo e la rappresentazione della donna attraverso una nuova Francesca Coinvolti nella realizzazione il pesarese Giovanni Contardi Tre volte campione del mondo di cubo di Rubik E il gradarese Roberto Pompucci che da 40 anni unisce arte e artigianato attraverso la lavorazione della ceramica Ed ora concludiamo con lo sport Lo facciamo innanzitutto occupandoci di due ruote perché ad Urbino torna l'appuntamento ciclistico della Raffaello Gravel La terza edizione della Raffaello Gravel quest'anno si svolgerà il 16 giugno La location è sempre la Fortezza Albornoz ad Urbino Il 16 giugno avremo i classici due percorsi, uno corto e uno lungo Il lungo è di 108 km con 2.500 metri circa di dislivello Il corto è 68 km con 1.900 di dislivello Andremo quest'anno alla scoperta del Monte Pietrelata e delle bellezze dell'Agola del Furlo La novità quest'anno invece è la prima edizione della Raffaello Gravel Trail Questo evento per estremi, per ciclisti che si vogliono sfidare durante la giornata del sabato mattina A partenza alle 7 e sempre dalla Fortezza Bornoz con la possibilità di rientrare entro il giorno successivo Alle ore 16 perché di fatto la manifestazione è lunga, 239 km con 6.850 metri di dislivello Percorrendo un territorio interno fatto dai tre monti Dunque prima il Monte Nerone, poi il Petrano e poi dopo il Catria Tutto ovviamente su buona parte di strade sterrate Il terzo anno Decathlon sarà partner di Raffaello Gravel Ormai siamo affezionati a questa manifestazione che l'abbiamo vista nascere dalla prima edizione Adesso si è allargata anche, siamo passati a due giorni Quindi siamo veramente contenti di poter supportare e partecipare alla crescita anche di questo sport Il Gravel che sta prendendo sempre più piede ma soprattutto ha un taglio veramente oltre che sportivo anche culturale, paesaggistico Quindi sposiamo molto la filosofia di questo sport E quest'anno c'è la novità del distretto bio delle terre marchigiane Che avrà, diciamo, l'espositore dei prodotti biologici sin dal sabato Dunque diciamo che è una proposta fatta su un weekend alla scoperta del territorio Vivere in socialità, il benessere e nello sport In una città bellissima che è Urbino È il tennista Luca Nardi, l'uomo copertina della Pasqua sportiva pesarese Il tennista del club Baratov ha vinto il trofeo Challenger di Napoli E ora è diventato il numero 76 al mondo della classifica ATP Vediamo questa e le altre notizie di sport nel nostro ultimo servizio Il weekend di Pasqua dello sport pesarese è stato aglietato dall'ulteriore conferma Della prepotente ascesa tennistica di Luca Nardi Il ventenne porta colori del tennis club Baratov trionfa al torneo Challenger di Napoli Dopo l'exploit planetario Indian West con la vittoria sul numero 1 Diokovic Che ha portato Nardi nella top 100 Ecco il successo di Napoli sul francese Herber Che porta Nardi al numero 76 della classifica mondiale del ranking A Napoli una vittoria in rimonta rimergendo dal 5-7 per poi imporsi 7-6-6-2 E ora sotto con Monte Carlo, Madrid e gli internazionali di Roma Sorrisi dal tennis, pochi dagli altri sport A cominciare dalla Vispesor che oggi ha iniziato la sua rivoluzione tecnica Con il nuovo allenatore Roberto Stellone che ha diretto il suo primo allenamento al Benelli Dopo l'esonero di venerdì di Mister Banchieri L'ex Frosinone Benevento prova a rianimare una vis terzultima Ma con 4 gare e più eventuali due dei play-out per credere ancora nella salvezza Dalla Vis alla VL ancora più complicata la situazione per il basket pesarese Nel sabato di Pasqua la squadra di Sacchetti ha perso combattendo a Treviso E giocandosi una chance forse decisiva nella lotta a salvezza Ora 5 incontri per invertire il proprio destino Ovvero recuperare i 4 punti che dividono da Varese Su cui si è spostata la prospettiva salvezza Si comincia domenica 7 aprile a mezzogiorno in Terra Sarda con Sassari Di partite ne mancano invece 3 alla fine della regular season dell'Ital Service Pesero di Calcio 5 Che nel sabato di Pasqua si è inceppata in casa di Mantova affamata di punti salvezza Sconfitta per 8-4 che non pregiudica un cammino play-off Che però dovrà passare domenica dalla sfida al Palamegabox contro la dominatrice del torneo Olympus Roma Palamegabox che sabato ha salutato la stagione della Megabox Vallefoglia E del suo campionato culminato con la prima volta i play-off Le Tigri escono a testa alta lottando ma venendo sconfitte in 3-7 ai quarti di finale Da Scandici seconda in classifica E si conclude qui questo nostro telegiornale Rossini News di martedì 2 aprile Vediamo altri appuntamenti però sulla nostra emittente A cominciare dall'informazione che anche subito dopo Tg vi fa compagnia alle 20 Con la prima puntata alla scoperta di CTE Square La casa delle tecnologie emergenti di Pesero Vedremo questo primo appuntamento condotto dal nostro Paolo Pagnini A seguire alle 21.20 come ogni martedì Una nuova puntata di Amministrando Questa sera nel salotto di Antonio Astuti Si parlerà della città di Pesero E lo si farà attraverso la presenza dell'esponente del Partito Democratico Sara Mengucci E del consigliere comunale dei Fratelli d'Italia Daniele Malandrino Come detto appuntamento alle 21.20 E poi vi ricordo l'informazione di Rossini TV Torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 Con Buongiorno Rossini La nostra rassegna stampa dei quotidiani locali Che nell'edizione appunto di domani, mercoledì Sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Si chiude invece qui Rossini News Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro un buon proseguimento di serata In compagnia dei nostri programmi Grazie mille